Salve, ben ritrovati a questo appuntamento con la lettura dell'articolo 9 del codice di comportamento, DPR 62-2013. Come anticipato nella lezione scorsa, qui siamo di fronte al secondo grande ambito di intervento della normativa anticorruzione. Ricordiamoci che il codice di comportamento è figlio, almeno la versione attuale, perché il codice di comportamento era già stato introdotto dalle riforme Bassanini, ma questa nuova versione è figlio della legge Severino, delle norme in materia anticorruzione. All'articolo 8 abbiamo trovato le disposizioni di richiamo sull'anticorruzione, qui troviamo la seconda componente, quella sulla trasparenza, quello che diciamo fa riferimento al decreto legislativo 33 del 2013. Trasparenza e tracciabilità. Vediamo che cosa dice il legislatore a questo proposito. Comma 1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni, secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Il decreto 33, abbiamo detto, prevede un meccanismo di pubblicazione obbligatoria, quello che fa da pandan al cosiddetto accesso civico ordinario. Quindi le amministrazioni devono pubblicare tutta una serie di dati in amministrazione trasparente e ovviamente questa pubblicazione implica la ricerca, la creazione di un sistema di informazione. Quindi occorre elaborare la determina, la delibera, il provvedimento, occorre andarlo a reperire se non si è fatto noi, quindi andare a cercare dove si trova il documento e trasmetterlo all'ufficio competente per la pubblicazione. Sappiamo che nelle amministrazioni normalmente esiste un servizio deputato, negli enti locali ad esempio la segreteria generale, deputato alla pubblicazione in amministrazione trasparente. Quindi vedete queste tre componenti, elaborazione, sono io che produco il documento, reperimento, lo ricerco altrove perché è prodotto da qualcun altro ma io sono tenuto a pubblicarlo, trasmissione, l'invio secondo le modalità ovviamente stabilite dal decreto 33, le norme interne, il piano anticorruzione, insomma tutta questa norma rinvia ad obblighi esterni. Ma ciò che stabilisce è questo obbligo giuridico, lo ripeto, il codice di comportamento non è una norma di principio, è una norma la cui violazione determina responsabilità disciplinare, quindi il dipendente che non assicura questi obblighi commette un illecito disciplinare. Il dipendente che aveva l'obbligo di trasmettere l'atto del proprio ufficio perché fosse pubblicato in amministrazione trasparente commette un illecito disciplinare, oltre alle eventuali sanzioni amministrative previste dalle norme sulla trasparenza. Richiamo generale secondo le disposizioni vigenti perché nel momento di approvazione del DPR 62 ancora il decreto 33 non era definito, quindi siamo all'inizio della creazione di questo sistema. Comma 2, la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere in tutti i casi garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità. Questa è una norma sottovalutata ma centrale nel nostro sistema. Che cosa dice? Dice fondamentalmente poiché il dipendente pubblico non si trova ad operare per un proprio interesse, non si trova a fare cose per propria volontà, ma nella maggior parte dei casi si trova ad applicare norme di legge, obbligatorie, disposizioni che impongono certi adempimenti. E lo deve fare con modalità procedurale. È un richiamo indiretto alla legge 241 del 90. Ci sarà l'istanza dell'interessato, ci sarà la richiesta del parere, ci sarà l'istruttoria, ci sarà la predisposizione della bozza di atto, la firma del dirigente, la trasmissione all'albopretorio, tutta una serie di attività che vengono fatte per arrivare al provvedimento finale. Il provvedimento finale è la sequenza, il procedimento amministrativo è la sequenza di atti diretta all'emanazione di un atto finale. La sequenza di atti diretta all'emanazione di un atto finale. Allora, mi dice il codice di comportamento che il dipendente deve assicurarsi che questi passaggi siano tracciabili, cioè che un domani replicabilità, io sia in grado di capire chi ha fatto che cosa. Attenzione, la programmazione e la regolamentazione serve a stabilire chi fa che cosa, cioè chi farà che cosa. Quindi quando io adotto un regolamento di organizzazione stabilisco che Simone Chiarelli deve fare le determine dirigenziali. Ma la tracciabilità significa trovarsi nella condizione un domani di ripercorre tutto il processo che ha portato all'adozione dell'atto finale. Quindi io devo avere la domanda dell'interessato protocollata, devo avere la richiesta di parere trasmesso per PEC o email tracciabile, cioè documentabile, quindi devo poter ripercorrere questo processo. Primo, per un'esigenza di imparzialità e buon andamento. Quindi la tracciabilità ha una componente di esigenza organizzativa interna. Secondo, perché è accessibile? Perché un domani l'interessato potrebbe fare accesso documentale e quindi io devo sapere quali documenti ci sono, quali non ci sono, dove sono o dove non sono. Perché il decreto trasparenza introduce anche l'accesso civico e poi introdurrà l'accesso civico generalizzato. Quindi la possibilità di richiedere anche informazioni su questo iter. Quindi lo rileggiamo perché il comma 2 è veramente rivoluzionario da certi punti di vista, anche se non è nuovo, già il DPR 445, già il codice degli appalti prevedono degli obblighi di tracciabilità. La tracciabilità dei processi decisionali, attenzione, non adottati dai dirigenti, quindi non è un compito soltanto di chi firma l'atto finale, non devono essere rintracciate solo le determine, deve essere rintracciato tutta l'attività, anche quella qualunque dipendente partecipa al procedimento. Guardate, qui non si fa riferimento al responsabile del procedimento, anche il dipendente che non è responsabile del procedimento, chiunque partecipa a questo processo deve tracciare la propria attività. Quindi conservare i documenti, cartacei, conservare i file elettronici in modo ordinato, anche qui c'è un invito alla tenuta ordinata. Perché? Perché in ogni momento gli può essere chiesto dove è quell'email con la quale hai trasmesso l'istruttore al tuo dirigente e la devi trovare, che consenta in ogni momento la replicabilità. Bene, questo è il contenuto fondamentale dell'articolo 9, trasparenza e tracciabilità. Abbiamo visto due concetti diversi ma centrali in questo nuovo momento di evoluzione normativa. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo la prossima volta su un altro tema innovativo che è il comportamento nei rapporti privati da parte del dipendente. Arrivederci, alla prossima!